Mi piace l'idea di lasciare un segno più mio, qualcosa di spontaneo. Mi piaceva l'idea proprio come che tu passeggiassi per le strade di Bologna, che comunque sono le strade che lui era solito frequentare, e ti imbatti in un Guccini che è un po' un omaggio, che è un regalo, un omaggio che voglio fare io all'artista ma anche alla città che lui ha vissuto tanto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie a tutti.